Inizia l'attività di cantante nel 1968, esibendosi nella sua regione con il gruppo Gli Attridi, diretti dal maestro Steno Sandoli. Nel periodo 1968-69 si esibisce come cantante nel gruppo The Pick Up nella provincia di Venezia, e partecipa, vincendoli, a quattro festival, Adria, Vicenza, Venezia e il Festival dei Due Mari di Caserta. Nel 1970 vince il Festival di Castrocaro, dove viene notata da Giacomo Mazzini, padre di Mina, che le offre un contratto con la PDU, etichetta fondata tre anni prima dalla cantante cremonese dal padre. Appunto, il primo 45 giri, sono già le 6, è una cover di me and mistrete dei grand fan Crayl Rod. Nel 1971 partecipa ad un disco per l'estate con 13 ragioni, che ottiene una discreta notorietà, segue un altro singolo, Innamorata di te, presentato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. E nel 1972 la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo con la Foresta Selvaggia. Scritta da Paolo Limiti, la critica la accusa di ricalcare eccessivamente lo stile di Rosanna Fratello. E il brano non riscuoti molto successo. Nell'estate del 1972 registra una puntata di Senza Rete, dove canta anche il suo nuovo 45 giri. Il mio amore per Mario. Il brano conquista parecchie simpatie da parte del pubblico, pur non trattandosi di un vero successo commerciale. Il mio amore per Mario è anche il brano d'apertura del suo primo album. Primo incontro, edito sempre nel 72 dalla PDU. Partecipa Canzonissima, edizione 1972-73, dove arriva in semifinale con E la domenica. Lui mi porta via scritta da Alberto Testa su musica di Gualtiero Malgoni. Nel 1973 è di nuovo in gara ad un disco per l'estate con La Città e registra una seconda puntata di Senza Rete, dove è protagonista assieme a Mino Reitano. In autunno pubblica Meravigliosa Malattia, che diventa un altro discreto successo. Anticipando l'uscita del secondo suo album, Un papavero tra le rotaie. Nello stesso anno incide O Paura ma non importa di Alberto Testa, Virca, Gualtiero Malgoni. Nel 1974 lascia la PDU per approdare alla Philips con due 45 giri in cui riprende brani come Tango, Delle Rose, Nilo Blu, o Abadjur. Nel 1975, seguendo la scia di Gigliola Cinquetti e Rosanna Fratello, che in quello stesso periodo riproponevano vecchi canti di vario genere. Ma Marisa Sacchetto passa totalmente inosservata. Nel 1976 ritorna alla PDU con due incisioni tratte dalla colonna sonora del film E' nata una stella. Ma anche queste non lasciano traccia. Nel 1977 posa nuda per Playboy e dopo un ennesimo singolo dal titolo Nei o Nei, uscito nell'estate 1978 a cui fa seguito L.L.P.T.S.A. Orso va a differente color. Composto da sei brani cantati in inglese e altrettanti in italiano. Tentando il genere disco. Poco più tardi uscirà un altro singolo intitolato Un momento prima ed entrambi i singoli fanno parte del sopracitato Long Playing. Nel 1979 insiste ancora sulla disco music pubblicando Hunting for My Heart, l'ultimo singolo per la PDU. La Sacchetto si avvale della collaborazione di Beppe Cantarelli e Julie Scott, che nello stesso anno firmano Tiger Bay. Sempre disco, per uno degli album di maggior successo di Mina Attila. Nel 1980 la cantante tenta nuovamente un restyling. Cambiando look, genere, elettronico, e casa discografica. Inoltre sarà semplicemente Marisa sulla copertina del suo penultimo 45 giri. Regina del futuro, firmato da Ivan Cattaneo e Pino Presti. Autore e arrangiatore di importanti capitoli discografici della Mina anni 70. Nel 1982 partecipa al film Corri come il vento. Chico, nel frattempo inizia a lavorare nelle prime tv commerciali. Nel 1985 escono su 45 giri quelle che ad oggi rimangono le sue ultime incisioni discografiche. I brani Una donna e solo tu. Solo noi. Firmati da Sandro Giacobbe.